Amici di Scimotori, l'avete riconosciuta? È la Smart 4-4, ho le chiavi in mano e sto per andarla a provare in un nuovo test drive. Lei è l'erede della classe A e si racconta alle donne. Proprio per questo ho voluto incontrare Livia Massara, Product Manager di Mercedes-Benz Italia, che ovviamente ce la racconta e chi poteva farlo se non una donna. Finalmente torniamo a parlare alle donne con la nuova Smart 4-4, un ricco equipaggiamento di serie già dalla versione d'ingresso, la Youngster. Alza cristalli elettrici, volante multifunzione, radio e climatizzatore. Le versioni Sport Edition One e Passion che già conoscete. E poi ci sono le nuove Proxy per i più tecnologici e Prime che strizza l'occhio alle donne, interni in pelle con cucitore a contrasto e sedili riscaldabili, quelli che sono tanto comodi la mattina quando fa freddo e entriamo in macchina. Ma nuova Smart 4-4 è bella anche fuori, con radar anticollisione e tutta la sicurezza di Mercedes-Benz e poi i fari a LED che piacciono tanto agli italiani e che sottolineano lo sguardo come noi donne facciamo con il mascara e cerchi in lega bicolore che uniscono eleganza e sportività. La nuova Smart 4-4 è disponibile in due motorizzazioni e tre varianti di potenza, 61 CV per neopatentati, 71 e 90 CV turbo, con prezzi a partire da 12.640 euro.